ciao ragazzoni oggi ero indeciso se fare il good morning in minan o meno perché visto il video del tringa stamattina e mi trovava d'accordo su ogni parola per cui il profumo in un altro video per un attimo mi è sembrato superfluo poi però alla fine mi sembra giusto anche ribadire alcuni concetti per portarli avanti all'interno sappiamo di un youtube che quando punto di vista non ha molti luoghi aperti di confronto critico c'è molto spazio per un po lo spettacolo l'avanspettacolo anzi spettacolo mi sembra un po troppo un po troppo valorizzante avanspettacolo già più sensato ma così vuole il pubblico e così si va avanti insomma questo è un alticanale che ho solito anche seguito un personaggio tale nonno bastardo interista che tanto mi è capitato nei consigliati bene è venuto fuori che questo qui è in realtà un personaggio di mezza età di 53 anni che usano un filtro invecchiante per creare il personaggio di questo nonno poi sciapone nel senso ha messo tutti nel sacco però lui è sempre più a negare quindi mi sembra che poi si è creata un po' la situazione da ridere però da insomma dall'esempio di cosa oggi significa fare contenuti su youtube cioè tu pensi già all'idea di fare non alle idee a quello che vuoi dire ma al personaggio che sfonda no? perché poi le idee che sfondano non sono difficili cioè non sono semplici da trovare ciò è qualcosa di oggettivamente interessante a dire dico più prima io è qualcosa di che non sempre è così io se dovessi vedere tutti i miei video non penso sicuramente di dire cose interessanti di tutti i video talvolta alcuni invece devono fare un po' il lavoro quando si è dato qualche dato quando ho un po' approfondito su qualche punto però è un lavoro è molto più facile puntare sul personaggio e investire su quello perché chiede meno fortuna chiede magari un filtro un filtro video piuttosto che qualche frase fatta o scenetta o paneme circense mi dicevo no? fare un po' vedere i giochi circensi e il pubblico contento con certi versi ma tant'è quindi ho fatto la mia solita scherzione di 25 minuti ma tornando a noi dicevo fatto proprio come ho partito il Tringada la questione di Chisitiello che ha fatto tante discussioni per me è un po' le trombolate sapete quando io dico i tromboni ecco ah Chisitiello secondo me ha detto una cosa dal punto di vista suo giornalistico lo dico da collega giornalista infelice ma infelice più che nella sostanza e nella forma nel senso che tu sei un giornalista anche se sai che certe parole si dicono perché spezzare le gambe si usa nel gergo figurati quindi appunto quanto tipo spezzare le gambe è un modo di dire chiaramente è come dire fermalo bruscamente ecco però tu giornalista non puoi permettersi di usare certi toni perché se già che vanno di verso una diciamo tutti off il fianco una sorta di voglia mediatica e poi l'altro poi la paghi infatti adesso secondo me dovrà provare il modo di scusarsi o che perché si è già procurato un bel diciamo mare di merda ecco da cui dovrei navigare ma nella sostanza io personalmente non ho di che recriminare perché mi sembra una frase detta fuori posto per però dire altro cioè che effettivamente Leao bisogna fermarlo bruscamente per ottenere qualcosa sennò quello prende va quindi non starei troppo a a ricamarci sopra pure avendo anche Leao reagito dicendo che il problema non è lui ma che fa dire certe cose io dico concentriamoci su altro il giorno in cui fa certo uno potrebbe dire così instigli alla violenza ma voglio ben sperare io sempre fiduci alle persone che un difensore non pensi a spezzare le gambe a Leao semmai a fermarlo e se lo fermo vi dirò dal mio punto di vista se se qualcuno fa fallo a Leao e si becca un bel giallo un bel rosso secondo me sbaglia cioè se lo fermi con i falli si lo puoi fare una volta al secondo se già fuori quindi se poi tutte le squadre giocano il contodino in 9 o in 8 ma mi fa solo piacere grazie a Leao ecco questo un po' ha rifiuto tutto su sta cosa poi merito a notizie Roma Roma che formalmente è non è informissima nel senso che poi in tempo non ci sarà Smalling ha qualche defezione di difesa e su Dybala c'è un'incognita però occhio perché era già capitata una cosa simile mi ricordo con la Fiorentina qualche tempo fa che poi c'era abbattuta una Fiorentina che era un'emergenza in difesa dove non pensavo di passeggiare poi aveva vinto quindi io spero che Milan ma sono convinto perché se lo vedo in un buon mood che Milan arriva concentrato io credo che se Milan sarà sul pezzo anche a virtù di quello che è il modo di essere della Roma che è un modo comunque tosto di essere per quello che è la squadra del Milan cioè loro si chiudono e sappiamo quanto il Milan soffra queste barricate però se a torno di queste barricate magari non c'è più un giocatore che post come Smalling che possa effettivamente fare la torre diciamo del Muraria ma i rapporti a un giro magari altri giocatori un po' meno performanti all'amare qualche spiraglio per far male si apre staremo a vedere staremo a vedere però sono piuttosto fiducioso ecco sapete che io non faccio mai grandi pronostici vi dico questa partita mi preoccupa meno sono un po' più critico o meno non sono abbastanza diciamo sereno sulla partita con la Roma poi ditemi voi che ne pensate io abbastanza tranquillo ieri si era fatto il caso di lesione al polpaccio poi io non non ne ho neanche parlato se avete visto parlavo di questioni di affaticamento se cioè il tema è se il giro non è al 100% deve giocare con la Roma dal mio punto di vista come ho detto ieri lo ribadisco se il giro se la sente un giocatore maturo che conosce il suo fisico va messo appunto perché qua la partita con la Roma davvero insieme a quella con la Lazio ma ancora di più quella con la Roma è la partita chiave da qui la sulle campionato per il campionato quindi questo è perché se non riuscissimo adesso a dare una spallata a una rivale diretta come la Roma secondo me interioremo anche in alto mood cioè miglioreremo ulteriormente il mood e quindi è importante molto importante ma ribadisco posso di già calcio mercato si parla avuta fuori la voce di Arnautovic un giocatore anche qua mi sembra di di fare l'accordo al tringa ma a me è un giocatore che è sempre piaciuto e lo trovo molto adatto al tipo di gioco di pioli è uno che sa far salire la squadra ma è uno anche con i piedi educati sa far l'assista sa dialogare anche con le ali cosa che spesso nel mondo faceva adesso un po' fuori dai margini per questioni non prettamente diciamo di campo ma l'unica è l'unico elemento un po' così è che è un giocatore con molto carattere quindi chiaramente penso poi non lo so ma vera bambina in credo per per voler giocare tanto ora se dovesse essere come cotitolare di Giroux sinceramente no nel senso che comunque non tanto per la sua qualità perché a me piace il giocatore che fa bene ma perché anche lui comunque ha 34 anni non è proprio il primissimo pelo un 89 quindi secondo me in Milan un attacco bisogno a di là degli aspetti tecnici proprio di affidabilità sul piano fisico perché quanto un 34 anni mai abbiamo visto il 34 anni comunque poi lui non ha avuto fortuni gravi quindi non è particolarmente usurato però insomma parlando da passato fare affidamento solo sul 34 anni per l'attacco mi sembra un po' un'azzardo dal punto di vista fisico atletico quindi io eventualmente come cotitolare pensere d'altro a un giovane ma se fosse il terzo attaccante uno come un altro dice grazie non è grasso che cola e di più immaginate il terzo attaccante uno così faccio se mi date una lettera dove fare la firma la faccio subito subito quindi io favore assolutamente di questi giocatori chiaramente a patto che non sia non sia l'unico acquisto davanti tra l'altro stavo pensando se come sembra Rebic terminerà la stagione e poi ci saluterà io ho la sensazione che Orrighi verrà visto anche da un punto di vista tattico secondo me come il suo Leao ho questa sensazione anche sa che ha caratteristiche diverse ma lui ha spesso fatto anche l'esterno d'attacco e se dovesse saltare Rebic forse chissà che non venga proprio sostituito direttamente da Orrighi in modo tale poi da lasciare uno spazio davanti poi Orrighi tra l'altro come Rebic all'occorrenza può fare cento avanti e quindi da quel punto di vista potrebbe essere una soluzione di pianificazione mercato premesso che parlare adesso di mercato è presto perché sappiamo come sia pianificato il mercato del Milan sulla base nel budget che viene terminato al termine della stagione su quelli che sono i piazzamenti ed incassi molto semplicemente quindi adesso sta troppo allora per obiettivi di un certo tipo è presto per giocatori come Anato che credo abbia un prezzo di mercato abbastanza contenuto invece un altro discorso comunque concludendo il video su quello che mi piacerebbe vedere come eventuale attaccante del Milan se dovessero esserci più giocatori come Anato da un mio punto di vista anche per una question di alternativa tattica mi piacerebbe vedere un giocatore più d'attacco in profondità anche per dare delle soluzioni magari un po' diverse al gioco del Milan ora non il classico attaccante leggerino e velocissimo perché quello non funziona generalmente col gioco del Milan ma un giocatore che sebbene abbia fisicità ma abbia anche molta atleticità sul piano dello scatto sul piano sarebbe bello di saltare l'uomo perché ne Giroud ne Renato diceva da lungo capace di saltare l'uomo magari nello stretto sì sul posto ma in in volata no ecco un giocatore che avesse quella caratteristica non mi dispiacerebbe per provare finalmente cosa che noi non riusciamo mai a fare a creare superiorità numerica nelle zone centrali del campo perché non è perché la superiorità numerica dobbiamo sempre per forza andare sulle ali e sono generoso a dire le ali perché quasi sempre qui c'è la sinistra adesso cazzo a Dias abbiamo anche questa possibilità permesso che Dias come avete visto è stato impiegato a destra secondo me è molto bello il movimento che fa perché parte da destra per poi spesso accentrarci accentrarsi in questo modo sposta anche la difesa avversaria ma niente di gente e Dias secondo me è uno dei pochi del Milan che centralmente può saltare l'uomo mentre Leao si sposta centralmente e realmente dal mio punto di vista lo salta perché ha poco spazio per il suo modo di driblare Dias invece diverse ecco aggiungere una pelina che sappia fare quello con un buon fisico insomma magari faccio troppo le denti kit ma ne so uno alto un'ottanta che sia veloce che sappia anche driblare le vie centrali non mi dispiacerebbe si parlava di D.A ecco senza magari puntare direttamente a D.A che è un buon giocatore ma non mi fa impazzire non l'ho reputo fare il cotitolare del Milan per quanto rispetto il giocatore però giocatore di 26 anni che arriva la Salernitana e fa una decina di gol più o meno si vede quello che puoi dare non lo so magari uno più giovane più scommette perché poi a quel punto puoi prendertela la scommessa perché se hai già due certezze come Giulio Renatovic puoi fare una scommessa a quel punto in attacco perché è la peggio ragazzi comunque c'è Giroud che è ok e Arnautovic quindi vedremo vedremo cosa cosa offre vendendo discorso di A che abbia quelle che ha testo di A esattamente quello che dico cioè non è un giocatore troppo alto però è rapido sa salto all'uomo che deve sentare di veloce ecco così dovrebbe essere io ti mando un abbraccio e alla prossima grazie a tutti